Anna Rea, segretario regionale della Will. Qual è il suo pensiero rispetto all'abolizione delle province e soprattutto le preoccupazioni che i dipendenti di queste amministrazioni vivono ormai da due anni? Io credo che noi dobbiamo andare a un riordino del sistema istituzionale nel nostro paese. Bisogna rimettere la regione nell'alvio giusto, perché non è più un ente di programmazione, è diventato un ente di gestione. Non è che dobbiamo fare altre sovrapposizioni. Molte delle missioni della provincia, per quanto le province hanno dei compiti su alcune questioni anche importanti, penso agli aspetti viari, alla scolastica piuttosto che alla sicurezza, ci sono degli elementi importanti, ma molti sono di sovrapposizione, se non addirittura duplicazioni, con il rischio che non lo fa bene nella provincia, nella regione e nei comuni. Tra l'altro questo è un paese che alla fine crea tanti campanili, moltiplica le specie anche istituzionali, alla fine crea solo confusione, sovrapposizione e dispendio di risorse, con incertezze che prima ancora dei livelli istituzionali vale anche per i lavoratori. E poiché i dipendenti delle province, a partire dalla provincia di Napoli, sono rappresentati dai sindacati, dal sindacato confederale e dalla UIL in particolare, noi non abbiamo nessun interesse che questi lavoratori, alla fine, con il loro ruolo, con le loro competenze, continuino a rimanere nel limbo come attualmente ci sono. Dal primo gennaio potrebbe esserci De Magistris, sindaco metropolitano di Napoli. È giusto che un sindaco metropolitano venga nominato e non eletto? Io lo trovo sbagliato, perché l'area metropolitana è stata un'intuizione molto importante, se penso soprattutto che cos'è l'area metropolitana di Napoli, è talmente vasta, ha talmente elementi di contiguità ma anche di diversità, che va appunto dalla zona Flegrea alla provincia di Caserta, toccando parte di Salerno. Insomma, voglio dire, è una situazione talmente vasta che meriterebbe. Innanzitutto, prima ancora, chi deve essere il sindaco, il nome, il coordinatore? Io non vedo ancora qual è la strategia dell'area metropolitana dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista dei servizi, perché le cose basilari, voglio dire, per quanto riguarda le funzioni in primis sono quella dei rifiuti, sono quelli dei trasporti e della sicurezza. Se già prendiamo solo questi tre elementi ci rendiamo conto che non c'è una politica sui trasporti per quanto riguarda la sola città di Napoli. Immaginiamo rispetto all'area metropolitana che cos'è la politica sui rifiuti e qui, voglio dire, non vogliamo piangere. Quindi io credo che è un'altra delle cose all'italiana, direbbe qualcuno fuori dall'Italia, che a questo punto dà una discussione che era anche molto interessante e io sono perché la si riprende al più presto. E il Presidente Letta, se non vuole anche su questa cosa, che ha detto un'altra bugia, poiché lui è una persona onesta, le bugie non le dice, quando si è presentata al voto di fiducia ha detto n cose. Allora insieme al fatto che non si riducono le tasse per i lavoratori e per le imprese, insieme al fatto che non ci sono azioni meritorie e concrete per i giovani, per la cultura e per lo sviluppo, mi auguro che anche questa non sarà un'altra buttata, poiché fu una delle prime cose che disse. L'immagine fu che si cancelleranno le province, in realtà si discuteva di come si rilanciano le aree metropolitane, doveva essere, e di come si va a un riordino serio dei nostri livelli istituzionali. Tutto questo non c'è, ma noi ne abbiamo assolutamente bisogno. Allora ha fatto una discussione seria e responsabile il sindacato in rappresentanza delle migliaia di lavoratori dipendenti, ma soprattutto per, e parlo della Will, che è il sindacato dei cittadini, nell'interesse dei cittadini che vivono in una situazione di inciviltà, perché in questa provincia non ci sono i trasporti. Non si sa se esci la mattina, e questo vale per gli studenti, per i lavoratori, ovviamente non di chi ha la macchina e l'autista, sono pochi, ma un lavoratore non sa che ora si stanno organizzando tra di loro per prendere la macchina, quindi con un aggravio di costi, in una fase in cui si ridurcono i salari, oltre che c'è la perdita del posto di lavoro, perché non sai la circonvessuviana, da Pomigliano piuttosto che da Gio Marino, se parte, ma soprattutto quanto puoi ritornare. I giovani studenti non possono andare a scuola perché non ci sono. Allora siamo a livelli di inciviltà, io sono stata al Cairo qualche giorno fa, qualche settimana fa, insomma, vuol dire, funziona molto meglio di Napoli e della provincia di Napoli, e con questo direbbe, no, ho detto tutto. Allora facciamo una discussione seria, e infatti l'invito che va ai politici, non solo ai rappresentanti istituzionali, anche ai rappresentanti dei partiti, ai deputati, se ci siete battete un colpo, facciamo una discussione seria, perché stiamo parlando dei nostri figli, stiamo parlando di noi stessi.